Gli uomini della nostra famiglia possono viaggiare nel tempo. Sarebbe bello se grazie a questo trovassi una ragazza. Aspettando l'uscita di What's Love. Di lei che la ami. Te ne pentirai per sempre se non lo fai. Ma sì, andiamo a sputtanarci per amore. Sì. Rivivi al cinema i film che ti hanno fatto innamorare. Yesterday. Perché sono finita nella categoria amica invece di quella io la amo. Questione di tempo. Cercate di sposare una persona gentile. Notting Hill sono cose che capitano nei sogni, non nella vita reale. Love Actuali. È lei l'unica. Il diario di Bridget Jones. Tu mi piaci da morire, Bridget. Così come sei. What's Love. Dal 16 marzo al cinema.